Io dietro ho un po' di spazio come lei, così, che devo tirare. Sì, però se questo non lo mettiamo più possibile, e lei informa intanto questa... Sì, però gli ho detto che non si può fermare durante questa eseguzione. No. Una volta che metto uno dentro lo devo continuare, capito? Non è che posso metto uno, poi dopo lascio 10 minuti, se te che dopo si rompino, capito? No, capito? Però tu puoi arrivare su questo ultimo, perché sto con la delle cavera qua, e poi fermarti per mettere l'ultima. È perché... È perché... È finito, andiamo via, ci sono un attimo. Vabbè, vuoi vedere tutta l'infurnata? No, a me basta una. Invece, ma basta una? No, la sua cavera... Faccio la prima qua e... Faccio la prima qua, oppure la seconda e dopo... No, no ci basta. Ok. C'è tanta roba sul forno. Sul forno? No, no, no. È caldo? No, no, no. Luciano, Luciano. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Così? Così va bene. Così va bene. Va bene. Va bene? Sì. Sì. Non c'è proprio... come è così? buono dovresti spostare il giocchetto alla sua? si e li fai ombra così fai ombra? ora no si, adesso no no com'è? bella bella allora, manca un po' di luce per questa parte ora rimbora il lavoro si un po' troppo troppo, vero? si troppo così mi sembra buona buona, così mi sembra buona si si provo a chiudere un altro pelino, un altro pochino chiudo? si, un pochino perché c'è il bianco un po' così? si ma buona ma stava pronti Luciano? per te va bene? penso che si ok ok e che facciamo? facciamo un totale e poi dei dettagli e poi io mi muovo i dettagli e tu vai si, ti muovi i dettagli mi muovi i dettagli ma molto mi muovi i dettagli mi muovi i dettagli perché lui può fare due infornate poi ne puoi staccare tutto veloce noi facciamo fare due cose diciamo tre sul totale e poi andiamo nel dettaglio e poi ci mettiamo uno stacco tre bagnotte? si ok e poi facciamo uno stacco allora non si può fermare lui eh? no 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 poi ci spostiamo di qua facciamo degli stacchi da per poter staccare qua ci trovano 11 a 9 12 a 9 perché c'è un passaggio temporale quindi dopo facciamo uno stacco si e poi lo sposto si lo sposto sul secondo sportello ok le 12 le diventi tutte insieme si va bene e Gianluca siccome c'è un passaggio temporale dalla prima bagnotta le due che facciamo in totale a quella in dettaglio poi con un primo piano di Luciano c'ho il passaggio hai capito? ok ok quindi totale totale stretto stretto primo piano e poi vediamo insomma intanto quella la portiamo a casa ok voglio ripartirlo? quando avalgo? quando avalgo? Gianluca non chiamo dove ok via era solo stretto? si ancora un paio di strette c'è il massimo? ha cambiato forma? si ok ok vai sul primo piano di Luciano adesso e poi scendi la prossima dal primo piano al piano qui c'è il passaggio temporale qui c'è il passaggio temporale guarda ci possiamo mettere anche i bassi ma insomma va bene così va bene così va bene così va bene teniamo questo punto di vista bene perché? totale aspetta vai ah ma allora questo ci vuoi dire va sullo stretto? ritorna da Luciano a questa operazione qui se ce la fai ok scena a soltivare vai vai Luciano adesso E' giusto Gianluca, sono stata zitta perché sennò c'è l'audioambiente, ma è giusto Se sei andato a stringere un pochino sul forno, andava bene, ora facciamo proprio lo stretto che mette il pane nel forno, ora ci possiamo prendere ancora un po' di immagini, invece quando infila proprio lo stretto fisso sul forno, è quella che ci manca E' un po' di luce E' un po' di immagini, ma è un po' di immagini E' un po' di immagini Ok E' un po' di immagini 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 Bene E' un po' di immagini Laleza Grazie a tutti. Grazie. 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 Ok, andiamoci di lì che vi deve formare. Grazie. 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 Grazie.